Per me la Costituzione è una bolla dove sono racchiuse tante piccole gemme che sarebbero i nostri diritti e le nostre libertà. Non è assolutamente il traguardo, ma è la partenza, è un dono. È stata scritta per dare la dignità e il rispetto all'umanità, indipendentemente dal sesso, dal colore del pelle o dalla religione. Direi che è un capolavoro. Ci vuole il coraggio di agire seguendo questa strada. Abbiamo un testo da cui possiamo partire.